Coreb è un'azienda di Trento, ci occupiamo di sviluppare e produrre dispositivi medici per il mondo della riabilitazione e della prevenzione degli infortuni sportivi. La nostra idea è quella di reinventare il modo di fare riabilitazione, quindi cambiare il modo di fare l'esercizio, di fare le valutazioni, il modo di misurare il movimento, fornendo ai professionisti degli strumenti tecnologicamente avanzati che si basano sull'utilizzo di sensori inerziali indossabili e un software proprietario che noi sviluppiamo. La nostra azienda è un'azienda molto giovane, è composta da 10 persone, principalmente ingegneri biomedici e sviluppatori. È un ambiente veramente molto dinamico, molto challenging, è un ambiente stimolante e per me, che sono un'ex giocatrice professionista di pallavolo e un ingegnere biomedico, è il massimo dell'ambizione e dell'aspirazione riuscire a combinare l'aspetto della tecnologia con quello dello sport. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS